Ciao ragazzi, oggi siamo a Selle in Massachusetts, famosissima e rinnovata a livello storico per Halloween e le streghe. Iniziamo subito con il robo delle streghe e poi andremo a visitare tutto quello che è attorno a noi, con maschere e via dicendo. Prima di tutto il video vi voglio ricordare che vi aspetto il 18 dicembre al Novo Ter di Milano Malpensa per il mio workshop incredibile e strepitoso. Buona visione ragazzi, ciao! Buona visione! e non è così dice che quando hai vinto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi saluto ragazzi, vediamo proprio con Samantha, la streghetta famosa e vi ricordo nuovamente che ho invitato anche Frankenstein al 18 di dicembre. Ci vediamo al mio workshop e buona visione di questo splendido video e buon Halloween!